Buongiorno, sono Ronchi Gianluca, personal trainer professionista e oggi a un congresso medico qua a Bologna ho avuto modo di conoscere il dottor Rada. Nel frattempo gli ho chiesto, visto che avevo un dolore abbastanza importante alla gamba, se aveva un rimedio per il mio dolore. Mi ha dato delle compresse e devo dire che dopo 5 minuti dell'assunzione il dolore è sparito.